Buongiorno, proseguiamo con le nostre lezioni di javascript e l'argomento odierno riguarda un approfondimento sulla programmazione asincrona che come sapete è particolarmente importante in javascript qui come sempre trovate riferimenti per approfondire dal capitolo del libro che usiamo come riferimento in questa fase alla Mozilla Developer Network che ovviamente è la guida di riferimento con tutti i dettagli prima di tutto vi ricordo che javascript è single threaded, questo l'abbiamo detto più e più volte e questo è assolutamente importante da ricordare ed è il motivo per cui dobbiamo fare molta attenzione a come scriviamo il nostro codice in javascript e nel momento in cui esegue del codice è sincrono, quindi il codice viene eseguito un passo dopo l'altro e il codice non può creare thread e quindi far girare altro codice in parallelo come abbiamo imparato finora come facciamo dunque a gestire la sincronicità in javascript? abbiamo già parlato di questo, abbiamo detto che esistono le callback che sono il modo più usuale di gestire questo aspetto in javascript come fanno a lavorare in maniera asincrona? come è possibile che meccanismi come il set timeout e altri callback di tipo asincrono che quindi vengono richiamate solamente nel momento in cui c'è bisogno di eseguire il codice funzionino se c'è questo meccanismo single threaded di javascript? ebbene la risposta è che c'è l'ambiente di esecuzione che ci viene in aiuto quindi c'è il browser, sia il browser sia il node.js che l'ambiente di esecuzione al di fuori del browser che abbiamo usato finora che usano un meccanismo, diciamo che è questo del event loop che ci consente di, diciamo, schedulare e di far eseguire del codice al verificarsi di determinate condizioni regola numero uno però per poter riuscire a usare efficacemente questo meccanismo è scrivere del codice che non blocchi, non blocchi perlomeno per troppo tempo infatti il meccanismo della sincronicità è molto utile in particolare nello sviluppo web perché abbiamo detto che tutto viene, praticamente tutto viene iniziato da azioni dell'utente quindi dobbiamo essere in attesa di questi eventi che scatenano le esecuzioni di codice però questi pezzetti di codice devono essere il più leggeri possibile non devono bloccarsi ad attendere qualcosa ma devono lavorare, fare il loro lavoro e quando hanno finito rilasciare, diciamo, il thread di esecuzione che è appunto la risorsa che tutti devono condividere all'ambiente di esecuzione che vedrà che cosa fare come passo successivo quindi, giusto per fare un esempio, quando un'applicazione web fa girare un blocco di codice che fa delle operazioni pesanti quindi ci mette un po' di tempo il browser può sembrare come bloccato, congelato e questa condizione non dovrebbe essere la condizione naturale solamente, diciamo, in certi specifici, molto specifici contesti è accettabile una cosa di questo tipo perché qualsiasi azione che noi andiamo a fare come utenti all'interno del browser verrà accodata e il codice relativo non verrà eseguito e quindi non avrà un effetto che vediamo quindi fino a che questo codice, diciamo, che sta facendo operazioni non rilascia il controllo del processore quindi termina la sua esecuzione e tutto il resto delle azioni accodate non possono essere eseguite tra l'altro questa condizione l'ha sperimentato ogni tanto anche al di fuori del browser per esempio nel momento in cui caricate un file grande dal disco lo scaricate dalla rete, accedete a database, eccetera ogni tanto l'azione sembra bloccata proprio perché c'è qualcosa che, diciamo, sta girando in maniera sincrona e che sta attendendo, impiegando del tempo per sforgere la sua elaborazione non consente ad altre azioni di funzionare in parallelo per evitare questa condizione praticamente la maggior parte dell'ambiente di esecuzione per il javascript è pensato per funzionare in maniera fortemente asincrona quindi molte delle primitive javascript messe a disposizione sono di tipo non-blocking ossia vengono chiamate, rilasciano subito il controllo all'ambiente di esecuzione quindi come se terminassero dopo aver tipicamente registrato una callback che consente di richiamare del codice nel momento in cui quest'azione che abbiamo richiesto di eseguire tramite la primitiva diciamo ha i dati che servono alla sua esecuzione i programmi javascript quindi sono di fatto tipicamente event driven cioè reagiscono a degli eventi come appunto i programmi che abbiamo visto che girano all'interno del browser che reagiscono a degli eventi eventi utenti o altri eventi che si verificano all'interno dell'esecuzione nel browser come abbiamo accennato già più volte il modo diciamo più di base per scrivere codice asincrono è quello di scrivere delle callback che funziona benissimo per le cose molto banali che abbiamo visto finora quindi guardiamo pure l'esempio diciamo che abbiamo diciamo la necessità di eseguire un'azione asincrona notate che qui è readline non readline sync che è quella che abbiamo usato per il laboratorio ma la readline classica di javascript che diciamo funziona in maniera asincrona quindi la primitiva funziona in maniera asincrona andiamo a chiamare il metodo question che stamperà qualcosa e rimarrà in attesa dell'input dell'utente in realtà questo modo di dire è scorretto nel senso che non rimane in attesa il metodo ritorna ritorna subito però prima di ritornare fa un'unica azione ossia prendere questa funzione cioè questa callback e passarla al metodo question di readline e quindi questa callback verrà messa nella coda che avevamo visto nella scorsa lezione dell'event loop e verrà tirata fuori e quindi eseguita da questa coda nel momento in cui ci saranno i dati disponibili per processare questa callback cioè quando avremo l'input dell'utente che sarà poi passato come parametro alla callback secondo le indicazioni di come è costruito questo metodo question che va a richiedere input dall'utente approfondiamo ora alcuni aspetti pratici diciamo dell'utilizzo delle callback in particolare per esempio la gestione degli errori e che cosa succede se si verifica un problema e il nostro codice non sta non viene eseguito perché appunto ha demandato ad un successivo pezzo di codice che è la callback la gestione del diciamo di quello che deve fare nel momento in cui è possibile cominciare nuovamente ad eseguire del codice per esempio in questo caso abbiamo letto il file per esempio dal disco in questo caso bene non c'è un metodo standard purtroppo per gestire diciamo in maniera standardizzata gli errori nelle callback diciamo che c'è una ci sono delle best practice per esempio la strategia adottata dall'ambiente esecuzione node è quella di avere il primo parametro della callback che immagazzini gli errori mentre si usa il secondo per il risultato dell'operazione e quindi nel momento in cui usiamo per esempio questa funzione diciamo dell'ambiente javascript node che ci consente di leggere un file che è ovviamente asincrona perché è una primitiva pensata per javascript e quindi funziona in maniera asincrona l'operazione lettura da file è per sua natura asincrona diciamo chiediamo di leggere delle informazioni e poi attendiamo che ce le forniscano perché devono essere recuperate da qualche parte dal disco e così via quindi diciamo alla nostra primitiva di andare a cercare una certa risorsa quindi il suo contenuto e di mettercela a disposizione e non attendiamo quindi questa funzione ritornerà subito però prima registra la callback che prende in questo caso due parametri il primo parametro è l'eventuale errore e il secondo sono i dati che ci deve restituire e quindi all'interno di questa callback eseguiremo il codice che vogliamo eseguire nel momento in cui abbiamo i dati e in più possiamo anche inserire del codice che gestisca eventuali errori per esempio il file non esiste piuttosto che c'è stato un problema di lettura e così via quindi se R è diverso da null allora significa che c'è stato un problema in questo caso facciamo un semplice console log ma potremmo fare qualsiasi azione che riteniamo sia corretta nel nostro caso altrimenti andiamo a processare i dati di nuovo qui molto semplice l'esempio loghiamo cos'è stato letto però potremmo andare a chiamare una funzione per andare a lavorare sul dato che è stato letto e così via questo meccanismo sembra che ci risolva tutti i problemi ma purtroppo non è scalabile come vedete nell'esempio nel momento in cui vogliamo effettuare una serie di azioni asincrone per esempio riprendiamo il nostro esempio di lettura di dati dalla tastiera e vogliamo chiedere più cose come vogliamo fare nel laboratorio dovremmo fare in modo che ogni volta che viene schedulata la callback che ci dice che l'utente ha immesso qualcosa quindi come nel primo caso ha inserito la risposta alla prima domanda andiamo a schedulare una seconda callback che verrà richiamata quando l'utente risponderà alla seconda domanda e così via tutto ciò annidato all'interno del codice della prima callback e se lo vogliamo portare avanti sarà codice annidato all'interno del codice della seconda callback e così via quindi ogni callback che vogliamo mettere in cascata al risultato di una callback precedente aggiunge un livello di annidamento e nel momento in cui chiaramente avete tante callback gestite in questa maniera diventa codice estremamente complicato e ingestibile sostanzialmente questo è il cosiddetto callback hell l'inferno delle callback questo esempio può sembrare un po' artificiale ma andiamo a vederne un altro magari più diciamo chiaro più 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 usuale come quello che andremo a usare prossimamente quindi nel momento in cui aggiungiamo un listener per esempio sull'evento load registriamo una callback la quale andrà a prendere qualcosa farà qualcosa per esempio va a prendere un elemento all'interno della pagina html con id uguale button aggiunge su di esso un event listener per aggiungere l'event listener passiamo una callback la quale imposta in timeout nella quale andiamo a lavorare su tutta una serie di elementi eccetera vedete che cercando di leggere interpretare questo codice diciamo cominciamo subito a capire la difficoltà che ci produce ragionare in questa maniera con questo meccanismo delle callback per cercare di risolvere il problema è stato introdotto in javascript questo meccanismo delle cosiddette promises quindi una caratteristica di base del linguaggio che è orientata a semplificare la programmazione di tipo asincrono e tra l'altro ci aiuta anche a risolvere il problema che abbiamo visto prima quindi evitare quel callback l cioè appunto quell'annidamento di callback che rende subito il codice difficile da comprendere da gestire e così via tra l'altro viene anche utile questo meccanismo delle promises perché è il blocco su cui si va a costruire diciamo nuovi tipi di funzioni in particolare quelle di tipo async introdotte con ecmascript 2017 che vedremo poco più avanti nelle slide che cos'è una promise una promise è un oggetto che rappresenta il completamento di una operazione di tipo asincrono noi decidiamo di iniziare un'operazione di tipo asincrono fino a che questa operazione non è stata svolta non sappiamo come andrà a finire come abbiamo visto prima nelle callback dobbiamo avere un meccanismo per esempio per gestire il fatto che ci sia stato un errore oppure no quindi si è pensato ad un meccanismo standardizzato per gestire questo problema e questa è sostanzialmente la promise la quale può diciamo essere si dice risolta tramite diciamo una condizione per la quale si è avuto successo oppure una condizione per la quale si è avuto un fallimento nel momento in cui la promise sarà risolta avremo diciamo la risposta quindi il completamento della nostra operazione di tipo asincrono sia che si sia verificato un errore sia che si sia completata con successo quindi utilizzare un meccanismo di questo tipo ci consente di rimandare nel futuro il diciamo così il valore di ritorno di una funzione che deve essere eseguita in maniera sincrona gestendo eventualmente anche il caso degli errori e ecco e tra l'altro vedremo sarà possibile concatenare più promise insieme cosicché potremo creare delle catene di promises e quindi diciamo risolvere anche il nostro problema iniziale che avevamo che era questo del callback L cioè le funzioni asincrone hanno idato l'una dentro l'altra perché potremo mettere in cascata la possibilità di eseguire una seconda azione di tipo asincrone nel momento in cui la prima ha avuto successo eccetera 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 vediamo quindi come funziona una una promise le promise possono essere create e consumate ne parliamo tra l'altro perché molte api a disposizione nell'ambiente web espongono delle promises quindi creano delle promises una volta che vengono chiamati i loro metodi che poi dovremo consumare quindi dobbiamo imparare sostanzialmente a gestirle per poter usare queste api nel momento in cui qualcuno ci dà una promise ci ritorna una promise questa promise inizia in un cosiddetto stato di tipo pending quindi in attesa in attesa che sia risolta si è risolta dicendo che è stata risolta diciamo con successo quindi è stata si dice fulfilled in termine tecnico diciamo soddisfatta se la volessimo tradurre piuttosto che invece è stata rigettata quindi diciamo si è risolta con un errore ritornare un oggetto come la promise da parte di una funzione asincrona è utile perché così il codice non rimane bloccato può andare avanti ed eseguire altre operazioni quindi il chiamante continua l'esecuzione del suo codice mentre attende che la promise svolga il suo lavoro il suo lavoro in maniera asincrona e dia al chiamante una risposta quindi che sia stato un errore oppure che invece sia riuscito ad eseguire il suo compito quindi la funzione del chiamante attende ad un certo punto che la promise venga risolta in uno dei due stati possibili fulfilled o rejected la seconda che abbia portato a termine il suo compito con successo oppure no quindi se vediamo questo esempio in cui la promise l'abbiamo creata noi nel nostro codice semplicemente con new promise quindi col costruttore della promise quindi creiamo una promise che inseriamo in una variabile nella variabile andrà a finire il riferimento a questo oggetto che è appunto una promise che prende nel costruttore una funzione che riceve due parametri i due parametri sono le a loro volta le funzioni da chiamare nel caso in cui la promise abbia avuto successo o non abbia avuto successo qui abbiamo scritto del codice semplice di esempio tanto per diciamo far vedere che cosa potremmo scrivere all'interno di una promise e quindi sarà una qualche condizione a un certo punto che ci dirà che la promise ha avuto successo e quindi chiamiamo resolve che è il parametro passato come primo della funzione che diamo al costruttore della promise e secondo parametro e seconda funzione verrà chiamata la reject nel momento in cui c'è stato un problema e quindi passeremo diciamo quello che questa funzione di reject che abbiamo fornito si aspetta nel momento in cui vogliamo usare la promise dobbiamo utilizzarla e chiamare su di essere il metodo then il quale riceve una callback al quale alla quale verrà passato come primo parametro ciò che viene passato alla funzione di resolve e quindi poi ne facciamo cosa vogliamo per esempio lo stampiamo possiamo anche aggacciare il diciamo il caso in cui la promise ritorni un errore quindi richiami la reject tramite catch anche in questo caso avremo il valore passato alla funzione di reject agganciabili come primo parametro della callback che inseriamo in questo punto in questo caso sono dei semplici console log per consentirci diciamo di vedere un po' di codice in azione ancora una cosa su questo esempio vorrei sottolineare come il fatto di utilizzare una promise e poi chiamare il metodo then nel momento in cui chiamiamo il metodo then fa sì che il codice si blocchi in attesa che la promise sia risolta e chiaramente nel frattempo può essere eseguito qualcos'altro che dipende dall'ambiente di esecuzione quindi si andrà a pescare dall'event loop e così via abbiamo quindi visto come creare la promise che è abbastanza semplice new è il suo costruttore che prende questa funzione che ha due parametri resolve reject e che quindi ha del codice che dovrà fare qualche cosa e poi alla fine eventuali alla fine chiamare o resolve o reject a seconda che vogliamo che la promise si diciamo concluda con un successo con un fallimento quindi il costruttore prende una cosiddetta executor function una funzione che esegue la promise e questa funzione prende due parametri come abbiamo detto resolve che verrà chiamata quando abbiamo successo e reject nell'altro caso e tipicamente la reject prende un oggetto di errore perché così chi chiama nella catch che abbiamo visto prima è in grado di capire che cosa è successo in questo caso abbiamo messo semplice stringa ma può anche essere appunto un oggetto che sia un po' più dettagliato su quello che è successo è anche possibile avere delle funzioni normali diciamo così come siamo stati abituati a scrivere fino ad adesso che hanno questa funzionalità della promise semplicemente basta farle ritornare una promise quindi return new promise con quello che abbiamo fatto prima e quindi questa diventa una funzione questa wait che ritorna una promise quindi veramente semplice e quindi poi possiamo possiamo scrivere del codice all'interno appunto della nostra promise qui siamo dentro questa funzione questa executor function e l'importante è che da qualche parte chiamiamo o reject o resolve quindi messo insieme con l'esempio di prima se duration è minore di 0 manderemo un reject se invece è maggiore di 0 attenderemo quindi faremo la set timeout e diremo la set timeout di chiamare la resolve dopo un certo periodo di tempo ecco il 10 e 10 millisecondi di prima e quindi abbiamo realizzato sostanzialmente una funzione che ritorna una promise e quindi una funzione che fornisce una funzionalità di promise vediamo nel dettaglio come andare a consumare la promise l'abbiamo intravisto qui vediamo diciamo la sua formalizzazione nel momento in cui la promise è fulfilled quindi ha avuto successo viene richiamata la callback then quindi la promise ha diciamo due due proprietà una è questa callback then che è questa proprietà a cui diamo questo metodo a cui possiamo passare una callback che è quella da eseguire nel momento in cui la promise ha successo se invece rejected andremo ad eseguire il catch then e catch sono instance method quindi definiti dall'oggetto promise quindi nel momento in cui creiamo una promise la promise avrà questi due metodi then e catch notate che che la funzione registrata col then cioè questa callback viene eseguita solamente una sola volta ma questo è normale perché la promise sostanzialmente si risolve una sola volta e nel momento in cui ha lo stato diciamo risolto sarà o fulfilled o rejected questo stato non può più cambiare quindi viene chiamata o l'una o l'altra ed una sola volta il catch volendo può anche essere omesso se non abbiamo necessità di controllare per un eventuale stato di errore quindi il catch non è obbligatorio questo è diciamo la signature dei metodi in realtà ce n'è ancora un terzo che è il finally che serve ad eseguire qualcosa una volta che la promise sia risolta che sia stata che diciamo che non ci siano stati errori o ci sia stato un errore e questa callback un finally viene eseguita in ogni caso indipendentemente dal risultato della callback e quindi se abbiamo necessità di eseguire qualcosa in ogni caso possiamo evitare di duplicarci il codice che andrebbe duplicato sia nella parte di reject sia nella parte di fulfilled come sempre non è bene duplicare del codice perché la manutenibilità del codice viene peggiorata ci sbagliamo modificando una parte modificando l'altra e così via vi faccio ancora notare una sottigliezza nel senso che al den è possibile passare sia la callback un fulfilled quindi quella per quando la promise ha avuto successo anche la rejected però solitamente si usa il catch perché spesso vengono usate come vedremo tra poco in cascate quindi solamente al termine vogliamo avere un'unica funzione di gestione dell'errore ma se dovessimo gestire l'errore per ogni promise possiamo andare ad usare sul den entrambe le callback notate che queste callback essendo appunto callback vengono eseguite anche esse in maniera sincrona quindi inserite nell'event loop e quindi nel momento in cui vengono inserite nell'event loop quando l'ambiente esecuzione diciamo così verifica che è il turno dell'esecuzione di queste callback queste vengono eseguite ultima cosa da notare importante è che tutti questi metodi then catch finally ritornano delle promise a loro volta e questo è assolutamente importante perché ci consentirà di andare avanti con ulteriori then e quindi concatenare le promise vediamo l'esempio di concatenazione delle promise questa è una situazione che trovate molto spesso nel codice che usa promise quindi è importante da conoscere infatti è uno dei vantaggi principali delle promises ci consentono di avere una maniera più naturale di esprimere una sequenza di operazioni asincrone con una catena lineare quindi senza annidare vi ricordate che all'inizio abbiamo detto che c'era quel problema di annidare le callback nel momento in cui non abbiamo un meccanismo differente e dobbiamo mettere delle operazioni asincrone una dietro l'altra quindi quella callback che abbiamo visto prima importante per fare questa operazione è sempre necessario ritornare un risultato dalle vostre callback perché questo è quello che viene poi passato nel resolve della callback e quindi verrà usato poi nel passo successivo dalla funzione successiva quindi noi abbiamo da fare in questo esempio tre operazioni andare a recuperare qualcosa appunto get issue da repository qual è l'issue una volta che abbiamo l'issue andiamo a recuperarne l'owner una volta che abbiamo l'owner gli mandiamo un email il tutto in maniera asincrona avrebbe richiesto di annidare tre callback e invece qui è tutto molto lineare perché basta che aggiungiamo un punto den siccome il punto den ritorna una promise possiamo scrivere di nuovo punto den a valle di questa parentesi che è quindi il valore di ritorno del den e così via e in più fare punto catch alla fine e inserire un eventuale codice di gestione dell'errore ah qui manca qualcosa vabbè bisogna chiudere la graffa la tonda e poi punto final scusate per questo errore eventualmente andiamo a che so fare un'azione che va fatta in ogni caso per esempio faccio l'esempio qui loggare su un file che è stata fatta un'operazione indipendentemente dall'esito voglio comunque aver traccia di tutto quello che ho cercato di fare anche solo ho cercato di fare e quindi questa nozione da fare comunque e se non avessi avuto questo meccanismo avrei dovuto mettere log action sia nel catch sia nel den nell'ultimo den invece avendo il final ovviamente la cosa rimane più chiara vediamo ora un altro esempio parlavamo prima delle primitive asincrone che ritornano una promise nell'ambiente web e la più tipica che andremo poi più avanti a utilizzare è la fetch che ci serve a caricare del contenuto dalla rete questa è una tipica operazione asincrona perché richiedo di caricare un certo contenuto dalla rete e devo aspettare che questo contenuto venga richiesto scaricato eccetera può passare anche diverso tempo non voglio certamente bloccarmi in attesa della risposta perché come dicevamo bloccherei tutta l'interfaccia del browser e quindi la fetch è stata pensata in maniera che ritorni una promise e quindi bisogna sapere utilizzare le promise per poter usare la fetch quindi questo codice funziona dove presenta la primitiva fetch sostanzialmente per esempio nel browser e diciamo fetch di qualcosa then allora eseguo una funzione una funzione che può anche essere rappresentata dal solo reference la funzione già essere definita in precedenza per non andare a diciamo complicare il codice la scrittura del codice quindi vediamo eseguiamo status se poi tutto è andato bene eseguiamo json se poi tutto è andato bene possiamo che so dire qual è stato il risultato e quali sono i dati oppure dire che c'è stato un problema status va a verificare prendendo il parametro qual è lo stato della risposta della della richiesta scusate della risposta HTTP quindi ipotizzando di aver fatto una richiesta HTTP e a seconda dello stato sa che se tra 200 e 300 escluso vuol dire che abbiamo avuto successo tra l'altro notate questo uso ecco di risolvere la promise con il metodo statico dell'oggetto promise che ha anche una possibilità oppure se c'è stato un errore ovviamente inviamo reject magari con uno status text non il codice o lo stato insomma qualche cosa che ci fornisca informazioni sull'errore quindi creiamo un nuovo oggetto error di questo tipo la funzione JSON inserita nel reference identificata da JSON è una funzione che prende un parametro che è di nuovo la response e la response JSON che sostanzialmente va a a convertirla dal formato JSON e quindi ci ritorna la conversione della stringa che è la risposta in formato JSON ok quindi eseguendo il codice di sotto avremo che prima di tutto viene richiamata la status che va a vedere cosa è successo quindi response se è tutto ok ce la risolve e quindi notate il return promise che fa sì che ciò che viene ritornato dal then sia una promise in realtà poi viene viene anche se fosse anche solo una stringa viene automaticamente convertito in una promise comunque diciamo questo è un dettaglio quello che è ritornato dal then è sempre una promise però noi l'importante è che ritorniamo qualcosa perché su questo qualcosa dovrà lavorare la successiva funzione quindi il parametro preso dalla successiva funzione è ciò che viene ritornato dalla funzione precedente in caso di resolve se avessimo fatto recette saremmo andati direttamente sul catch catch e allora in questo caso error sarebbe il nuovo oggetto creato e ovviamente possiamo loggarlo se JSON restituisce senza problemi il response JSON quindi qui diciamo concludiamo la nostra catena semplicemente scrivendo sulla console quello che vogliamo scrivere quindi che so i dati e così come caricati poi dalla funzione JSON quindi qui abbiamo visto di fatto una primitiva che ci ritorna una promise quindi ci siamo bloccati sul primo then che ci consente di attendere che abbia svolto le sue operazioni poi ci sono delle funzioni che sostanzialmente ritornano immediatamente quindi di fatto ritornano una promise perché sono utilizzate col then ma sostanzialmente diciamo questo è stato fatto per poter attendere l'esecuzione della fetch e poi richiamare una serie di funzioni abbiamo quindi visto una maniera di concatenare in maniera seriale delle funzionalità di tipo asincrono quindi delle chiamate di funzione asincrone e eseguire la successiva nel momento in cui la precedente ha terminato ma se invece volessimo eseguire molte azioni in parallelo per esempio dobbiamo caricare 5 risorse dalla rete dal disco non so da qualche parte chiaramente non vorremmo farlo in maniera sequenziale facessimo un for che chiamano una funzione di questo tipo e va avanti solamente quando la funzione è ritornata dobbiamo attendere 5 caricamenti mentre avremmo potuto fare i 5 caricamenti in parallelo e per questo esistono due metodi metodi statici di promise primo all che prende un array di promise objects come input e quindi ci ritorna anch'esso una promise e la promise sarà rejected se almeno uno di queste promise in input è stata regettata quindi ha dato un errore altrimenti sarà fulfilled quindi avrà successo con un array dei valori di fulfillment ritornati da ognuna delle promise quindi di fatto abbiamo una maniera per eseguire insieme tutta una serie di azioni asincrone farle partire e sapere se sono state tutte eseguite senza errori oppure no tra l'altro l'array di input può anche contenere non promise values quindi dei valori che non siano dei promise e quindi ci viene comodo ogni tanto e questo viene semplicemente ricopiato nell'out quindi di fatto possiamo eseguire anche delle sostanzialmente delle azioni delle funzioni che non siano necessariamente promise non ritornino necessariamente alle promise il metodo race funziona in maniera analoga cioè prende anch'esso un array di promise però ritorna nel momento in cui la prima delle promise viene risolta quindi ha avuto successo oppure la prima nell'ordine di tempo quindi diciamo che io voglio svolgere tutta una serie di operazioni però mi interessa sapere quando ne è stata completata almeno una quindi non so potrei voler inviare la stessa coppia di dati in più posti e mi interessa che ci sia almeno un posto che abbia almeno ricevuto una coppia e di nuovo funziona come prima con i valori di tipo non promise veniamo ora ad un aspetto interessante di javascript perché l'ecmascript 2017 cioè s8 ha introdotto due nuove keyword async e await che ci consentono di fare ancora meglio l'operazione diciamo di chiamata di più funzioni di tipo asincrono in sequenza scrivendo il codice in maniera che sembri quasi codice sincrono quindi looks like però attenzione che vedremo che queste keyword si basano sul concetto di promise che abbiamo appena visto e quindi è importante aver ben chiaro come all'interno il meccanismo sta funzionando a livello di utilizzo la cosa è abbastanza semplice quindi mettiamo la parola chiave async davanti ad ogni funzione che ci interessa e questa farà in modo che essa ritorni una promise nel momento in cui chiamiamo una funzione di tipo async possiamo chiamarla con la parola chiave await davanti cosa che tra l'altro funziona anche con qualsiasi funzione che ritorna una promise quindi non solo con quelle su cui abbiamo messo la parola chiave async perché di fatto async fa questa cosa fa in modo che la funzione ritorna una promise e fare questa operazione fare in modo che il codice che fa questa chiamata await qualcosa si blocchi fino a che la promise è risolta o rigettata quindi ha avuto successo oppure ha dato un errore quindi il meccanismo diventa molto lineare quindi definiamo le funzioni async e poi faremo delle chiamate await qualcosa nell'esempio qui sotto vediamo l'esempio di una definizione di una funzione async è molto semplice abbiamo solo aggiunto async return test questa anziché ritornare un semplice string ritornerà una promise che è fulfilled perché qui diciamo non verrà mai rigettata ci darà il valore test possiamo usarla col den visto che di fatto la funzione async ci ritorna una promise den e in questo caso andiamo a chiamare questa callback che è la console log quella che conosciamo a cui verrà passato come parametro il valore di ritorno della promise fulfilled quindi il valore resolve che è questo test e quindi scriverà test questo è un semplice esempio per far capire che ci sono funzioni che creiamo semplicemente mettendo questa keyword async di fatto ritornano una promise che può quindi essere usata come abbiamo visto finora a livello pratico una funzione di tipo async definisce appunto una funzione asincrona che ha un suo oggetto un tipo di oggetto async function noi interessa che che le funzioni di tipo asincrono operano in maniera sincrona quindi non sono chiamate sincrone come il resto del codice ma vengono messe nell'event loop nel momento in cui vengono chiamate e ritornano implicitamente una promise come risultato però la sintassica è quello che ci interessava diciamo per rendere il codice più leggibile è sostanzialmente identica a quello di una funzione normale function un eventuale nome se non è implicito se non facciamo una funzione senza nome anonima ecco i suoi parametri il suo codice eccetera abbiamo solo aggiunto async per chiamare queste funzioni possiamo usare appunto la keyword await che tra l'altro può essere solo usata dentro le funzioni di tipo async quindi non possiamo avere una qualsiasi funzione e mettere await una funzione asincrona ma dobbiamo avere la funzione di tipo async il risultato è che questa chiamata await quella funzione blocca l'esecuzione del codice fino a che la promise non è risolta e quando è risolta il valore dell'espressione await quindi noi scriviamo await il nome di una certa funzione con i suoi parametri eventualmente il valore di questa espressione è il valore della promise fulfilled se la promise invece è rejected le await lancerà il meccanismo del throw il valore reject che quindi dovrà essere agganciato da qualche parte con un catch se il valore dell'espressione following che segue la await non è una promise verrà convertito in una promise risolta come abbiamo già visto prima per esempio con la string però in un altro esempio quindi il meccanismo sembra abbastanza semplice in effetti se andiamo a vedere un codice ci sembra relativamente semplice creiamo una funzione async call e la facciamo async perché dentro vogliamo usare await e possiamo usare await perché questa resolve after two seconds che abbiamo creato noi ritorna una promise però abbiamo detto se anche non ritornava una promise si poteva usare lo stesso implicitamente però sarebbe stata risolta se creiamo noi la promise da ritornare possiamo decidere cosa fare quindi in caso di resolve e in caso di reject qui facciamo una cosa molto semplice facciamo solo il resolve non possiamo il reject e dopo un certo tempo che abbiamo messo dopo due secondi la promise si risolverà e quindi il risultato di andare ad eseguire questa funzione async call che possiamo eseguire tranquillamente non dobbiamo usare la wait ma semplicemente si può eseguire e questa parola chiave ci serve sostanzialmente ad usare la wait qui dentro e quindi ci ricorda anche che la funzione userà una chiamata async da qualche parte quindi potenzialmente si bloccherà noi la chiamiamo e quindi comincerà ad eseguire il suo codice console.log.calling verrà subito fuori sulla console e poi andremo ad attendere che si risolva la promise e la promise si risolve dopo due secondi quindi passeranno due secondi a wait resolve verrà valutata come resolved quindi che verrà assegnata result e quindi console.log.result semplicemente andrà a scriverci sulla console.resolved però notate che questo è un codice di tipo asincrono perché si blocca e l'abbiamo scritto come fosse un codice asincrono sequenziale no scusate non sincrono sequenziale cioè come avremmo scritto normalmente il codice facciamo una cosa chiamiamo una funzione e facciamo un'altra però appunto è asincrono nel senso che a un certo punto si blocca e quindi potenzialmente mentre questo è bloccato altre cose all'interno del nostro ambiente di descrizione possono venire eseguite sempre su questo esempio nel momento in cui abbiamo scritto async sulla function async call l'abbiamo fatta diventare una funzione che implicitamente ritorna una promise e quindi abbiamo la possibilità di fare tutto quello che facciamo con le promise per questo abbiamo anche imparato le promise prima perché se no questa scrittura non ci avrebbe diciamo non avrebbe avuto senso per noi quindi se noi facessimo then console.log come abbiamo fatto prima il risultato è sempre lo stesso cioè facciamo stampare il valore di ritorno della funzione async prima stampavamo qui dentro console.log quindi stampavamo qui dentro ritorniamo il valore o meglio vabbè potevano ritornare result ma diciamo possiamo ritornare direttamente una stringa e questa viene usata dalla callback che viene eseguita in caso di successo della promise implicitamente ritornata dalla sync vediamo ora alcuni esempi di codice diciamo trasformato con questo meccanismo quindi che so abbiamo questa make request che avremmo scritto in questa maniera come una funzione che va a ritornare diciamo qualcosa che sostanzialmente nel momento in cui ha avuto successo ritorna done ma nel momento in cui ha avuto successo esegue un console.log di data e sostanzialmente qui possiamo trasformare il codice semplicemente in un console.log await get api data quindi ovviamente get api data è una funzione che ci ritorna una una promise perché poi applichiamo il den e quindi la possiamo anche chiamare con la wait e quindi di fatto nel momento in cui viene risolta avrà un suo valore che è quello che viene stampato perché appunto l'abbiamo messo in console.log però è molto più leggibile e get api data può anche bloccarsi perché attende infatti che la promise venga risolta vediamo ora un esempio diciamo in cui avevamo concatenato le promise e quindi appunto che so la get data di prima in realtà era la get api data però diciamo pure la get data qui andiamo a chiamare una funzione di nuovo che ci ritorna una promise concateniamo col den in caso di successo questa funzione get toner poi la funzione send me però vedete diciamo come il codice viene scritto è vero che è più leggibile delle diciamo callback annidate però è sempre una concatenazione di operazioni che anche essa diciamo non è del tutto diciamo immediata da leggere il codice sequenziale in questa maniera scritto in questa maniera è molto più leggibile quindi async ovviamente function get data e qui avremmo abbiamo const issue await get issue quindi scriviamo con la wait mettiamo il risultato e poi lo usiamo lo usiamo magari in un'altra funzione con await e quindi di fatto stiamo realizzando implicitamente questa catena di promise ma in una forma molto più leggibile quindi appunto in maniera diciamo un codice sequenziale sequenziale che però ogni tanto si blocca e esegue le operazioni indicate dalla wait in maniera sincrone e quindi consente eventualmente ad altre operazioni di inserirsi a seconda di come l'event loop decide di schedulare le varie chiamate e quindi di fatto tre operazioni await 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 in maniera scritta in maniera sequenziale ovviamente c'è molto interesse nel convertire diciamo il codice che fino a poco tempo fa veniva scritto appunto con le promise che era già un passo in avanti rispetto a questo annidamento delle callback in un codice con async await e perché appunto è molto più leggibile quindi troverete tanto codice in giro che diciamo usa questo approccio promise then catch eccetera per esempio per la fetch per dire che è una delle chiamate che ci consentono moderne che ci consentono di caricare in maniera sincrona delle risorse nell'ambiente del browser ecco ci sono anche degli strumenti che riescono a farci la confezione in maniera automatica come appunto il visual studio code per esempio è uno di questi per nostra fortuna ritornando e cercando di fare un po' un riassunto di quanto abbiamo visto in questa lezione quindi abbiamo detto che tramite le promise ma in particolare tramite le nuove keyword async await del diciamo javascript più recente riusciamo a scrivere del codice che è più facile da leggere perché è sequenziale e anche tra l'altro più facile da debuggare perché il codice sincrono è abbastanza complicato da debuggare perché il debugger non si ferma nel senso che noi definiamo una callback però il debugger non è che entra nella callback nel momento in cui passiamo sul pezzo di codice che aggancia la callback perché la callback verrà richiamata dopo e quindi diventa più difficile da debuggare invece con questo meccanismo diventa più facile perché di fatto ci fermiamo fino a che non abbiamo la risposta quindi questo è un altro esempio che appunto fetch response eccetera ovviamente con il codice che può fare anche del resto fetch eccetera eccetera e ci consente di scrivere del codice appunto molto molto leggibile mi raccomando il fatto che async await siano disponibili solamente in una versione più recente del linguaggio non deve bloccarci perché come abbiamo visto in una delle lezioni precedenti ci sono poi dei meccanismi dei sistemi che sono in grado di tradurre del codice scritto in javascript più recente in una versione diciamo di javascript più vecchia quindi noi abbiamo il nostro sorgente scritto in questa maniera e se abbiamo necessità con strumenti vari di traduzione bubble e compagnia possiamo fare questa conversione se sappiamo che andiamo su una piattaforma che non supporta questo javascript più recente per concludere abbiamo inserito questa slide che sostanzialmente a questo punto potreste pensare allora cosa devo fare uso le promises o uso async await a parte il fatto che appunto abbiamo detto possiamo tradurre tutto in promises ma diciamo che se viene molto semplice il codice molto lineare usando le wait beh allora vi suggeriamo di usare le wait come nell'esempio precedente se l'output della funzione 2 la seconda è dipendente dall'output della prima funzione allora aspettiamo il risultato della prima usiamo await e così andiamo avanti in maniera diciamo tipo sequenziale se due funzioni possono essere fatte girare in parallelo creiamo due funzioni asincrone e facciamole girare in parallelo non ha senso aspettare tanto più che abbiamo questi meccanismi di esecuzione di tipo asincrono e quindi usiamo il meccanismo per farle girare in parallelo che per ora è questo promise all che abbiamo visto a cui passiamo un array di promises invece di creare delle enormi funzioni tipo async cerchiamo di creare delle piccole funzioni asincrone che chiamiamo poi con la wait perché come abbiamo detto all'inizio cerchiamo di evitare di scrivere tanto codice che eseguito può metterci del tempo e quindi di fatto bloccare altre attività ogni volta che facciamo una wait rilasciamo all'ambiente di esecuzione la possibilità di eseguire altro perché può andare nell'event loop a pescare altre cose da eseguire fino a che non abbiamo la nostra promise risolta se il codice contiene parti bloccanti è meglio scriverlo come una funzione di tipo async quindi facciamo la funzione la trasformiamo in async facciamo in modo che ritorni automaticamente una promise non abbiamo voglia di metterci noi a scrivere la promise e quindi mettiamo async davanti e così demandiamo a chi chiama la nostra funzione la decisione sul fatto se puoi chiamarla in maniera bloccante o no se non la vogliono chiamare in maniera bloccante metteranno a wait però sanno che lo possono fare se noi non abbiamo reso la nostra funzione di tipo asincrono quindi che sia scritto async o ritorno in una promise e questo chi chiama non può deciderlo può solo decidere se vuole usare la nostra funzione o no ok e quindi questo è quanto volevamo illustrare nella lezione odierna quindi abbiamo visto questo meccanismo di programmazione asincrona in javascript che mi raccomando è assolutamente importante perché è uno degli aspetti fondamentali del linguaggio e abbiamo visto come realizzarlo in maniera più semplificata utilizzando le promise e talvolta quando viene comodo come dicevamo in questa slide anche usando le nuove keyword del linguaggio async a wait grazie per l'attenzione